Bella raga, sono Rodrigo, stavo facendo un nuovo video di Brawl Stars con Andrea Ok, giocheremo con Andrea e comunque siamo abbastanza bravi Ho appena fatto un altro video con un ragazzo che si chiama Stefano, posso dire il suo nome ma non posso dire il cognome Lui si chiama Andrea ma non posso... e beh, c'è scritto il suo nome diciamo Andre 3 è il suo cognome quindi penso che lo posso dire Andrea Priya, ok, perché tanto c'è scritto anche Però si chiama Priuz, che lo chiamo Priya Però abbastanza sembra... sembra che sappia giocare con sto personaggio Ok, ok Ok, non ha niente, ok, non ha niente comunque Ok, ce n'è un altro lì ma non vorrei... Andrea! Andrea 3! Andrea, per evo! Mi tolgo il 300! Nooo raga! Sono morto con sto brutto bannabbo! No, non prenderle tutte! No bro, ma devi aspettare bro, devo spiegargli dopo comunque che ogni volta che uno muore aspetta un attimino così almeno l'altro quando rinasce ne ha qualcosa E vedete che io ne ho 5 mila di vita, è vero sono tante però non tante abbastanza da vincere e comunque provare a fare delle kill Ok, c'è un bull Vorrei provare a pusharlo Non bulvolo ed è poco Poccio comunque Ok, usa la ultra per scappare No raga, mi bugga, mi bugga tantissimo Vorrei provare a scappare Ok, ho fatto tantissimo danno Sono morto, ma ce la fai Andrea? Ce la fai Andrea? Ce la fai? No, non ce la fai, ce la fai, ce la fai, se vai contro qualcun'altro, quelli due là, ce la fa alla grande, quindi tranquillo Ok Andrea, non so se nemmeno nascondersi, perché comunque si tratta di tranquillider Ok, usano tutti la ultra qua raga, che caso! Siamo arrivati secondi, quindi bene, lui ha la ultra, ma se mi ha... oddio, vai così! No, no, no Andrea! All'ultimo Andrea, all'ultimo Comunque bravo Andrea che si è recita a giocare benissimo anche Sembra che si è migliorato tanto Poi vedrà comunque il video raga e capirà Li scriviamo, sei migliorato Li scrivo Sei migliorato Allora, gli ho dato Sei migliorato? Scrive Non posso sceglierlo io, ai fatti, quindi devi sceglierlo comunque Sei migliorato veramente? No, lui no, 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 la metto io che c'ho a livello 5 Ok Sta registrando? Io le dico sì perché le ho detto prima che su WhatsApp Yeah, sì, sto registrando, scrive qualcos'altro Vediamo comunque cosa scrive Ok, andiamo eh Su che canale? Le dico L'ho Mandato Sul Gruppo Gruppo La Foto Dopo Te lo Mando Ok, lo mando dopo raga comunque Vediamo cosa scrive ancora Scusate per il rumore perché Io Stai registrando? Su che canale? Ah Il video, ok Mobizen Comunque Mobizen Ragazzi Voi che volete Avere una No Mobi Mobizen Comunque Comunque Volete Avere una Vita da Youtuber Diciamo Che a volte Vi piace tanto Non so Fare dei giochi Che vi piace Volete Condividere Con tutti gli altri Potete pure fare Cioè Un Mobizen Lo dico Perché Mobizen Non è un bel gioco Non è un gioco È una struttura Di 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 video Quindi tu puoi fare video Poi magari vi farò Un video Spiegando Com'è Quindi Ok andiamo in mezzo No 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 Andiamo Andiamo via Andiamo via Ok Attento Attento Basta che c'ho io la ultra Basta che c'ho la ultra Bene Ok mi scappava Dovevo scappare Ma non sono riuscito Bravo Restiamo più nascosti Ecco Bene Ebbene Restiamo più nascosti E tranquilli Restiamo nascosti E loro sono in due raga Io preferisco stare nascosti Sinceramente Preferisco stare Molto nascosto No è morto però Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti E lui non ha nemmeno la ultra Fate conto Di quanto rea è Tranqui Andre tranqui Tranqui 3 2 1 Restare solo Ma raga Mancava un secondo Vabbè Però abbiamo vinto Più 4 E quindi Siamo abbastanza felici Almeno io sono Abbastanza felice Ok 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 Ho finito tutte le mie coppe Allora Ho 1017 Raga Seleziona brawler Metti prone Io non te lo consiglio Quello Però vabbè Raga Deciderà lui Ok raga Sono quasi 8 minuti E mi ha detto Allora Ciao Rodrigo Raghi È un altro Che vuole fare Un altro video Ok raga Finisco questa partita Con Andre E vado subito Con un altro Che cavolo E poi non ho mai giocato Con lui Cioè Sinceramente Così Nel senso Oddio Bravo Bravo Andre Bravo Bravissimo Bravo Andre Se Schere Adesso mi uccido Ok Chiudilo da lì Vai No Non c'è nessuno Ok Andre lancia Le tue Bombe Da 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 Alco 100% Ok Andre Non vorrei usarla Ultramale Ok 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 Via La Ultralion Lio Mi sembrava Stanto che Rosa Mi uccide tantissimo male Con 6 power up Io dico power up Penso che si scriva così Si dico Oddio È impossibile No 3 secondi Andre Ci sono arrivati i secondi E devo dire a lui Di dire ciao raga Però il video non lo fermo Andre le dico Andre Ok Vabbè Questa succede tra niente Li scrivo Andre Devo fare un video con Vabbè Vado con Pone su whatsapp Intanto raga Perché Devo dirglielo Comunque Non è che esco dal gioco Così a caso Ok Devo dire un'altra cosa Ok Velocemente Non volete Non volete Ciao Rodrigo Ma i miei genitori Non vogliono Che io faccia Dei video così Edo Ma che senso Così Quindi Non potete fare I video con me Su Brawl Stars Non su Brawl Stars Dici Quello li parlerò dopo raga Però andiamo avanti Perché non posso lasciare Ci sei? Ok ci sono Perché Cioè Volevo fare un video con Edo Pensavo che lui diceva Facciamo un video Ma invece Il suo genitore Come avete visto E non vuole Ok Volevo bello No raga sono morto Undici Dieci Nove vai Sei Cinque Quattro Tre Duas One E vai è così Rientriamo nel gioco Un corvo con uno Non è un corvo raga E vabbè ma corvo però fa male se lo usa Aia Aia Non so cosa fare perché mi toglie duemila dopo Oddio Andre muore No non morire Andre Oddio cos'è No Ma è morto da solo Con la tempesta Più tre Ragazzi terzo posto più uno perché siamo stati veramente alla grande Oddio Adesso sto Ciao raga Lasciate like Scrivetevi al canale E Seguitemi su Instagram Mi richiamo Rodrigo Con la prima lettera maiuscola E 342 Se non sbaglio No raga aspettate Mi chiamo Rodrigo Costa Scusate Con la prima lettera maiuscola Comunque c'è una foto Di me In pratica In aereo Ciao raga Scrivetevi al canale Lasciate il like E ciao